Buongiorno, oggi vedremo una nuova distribuzione Linux. Il nome è Musix. È una distribuzione live di produzione, grafico design, video editing e applicazioni generali proposte. L'initiatore e co-director del progetto è Marcos Germán Guglielmetti. Musix è una delle piccole distribuzioni Linux che riconoscevano dalla Fondazione Free Software come primaria disponibile sui siti, distribuendo free software e escludendo quali informazioni non free per pratica l'uso. Ok, now enter user and live as password. Here, in the menu, you can see the Musix programs and Debian programs. In the Musix, there are two sections, there is for sound and for video. We must remember that Musix is developed by a team from Argentina, Spain, Mexico and Brazil. The main language used in development discussion and documentation is Spanish. However, in music, is a community of users who speak Spanish, Portuguese and English. The system is very fast because it uses Iceウem. It's a community of users who have a team of people, in the list of questions. Grazie a tutti.